Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha annullato il provvedimento di sequestro dei beni all'ex leader di Confindustria Antonello Montante, ritenendolo infondato e ordinando la restituzione di tutti gli immobili all'imprenditore. La Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreino Chipinti dopo la condanna di secondo grado, aveva accolto la richiesta del Comune di Caltanissetta, costituitosi parte civile con l'Avvocato Raffaele Palermo, disponendo il sequestro della villa di Serra di Falco di Antonello Montante e altri beni immobili. Al provvedimento si erano posti legali di Montante, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, i quali hanno poi presentato un ricorso al Riesame. I difensori, nel discutere il proprio ricorso, hanno sostenuto che non c'erano i presupposti per disporre un sequestro conservativo, in quanto Montante non ha posto in essere alcun atto di dispersione del patrimonio e quindi non c'è rischio che in caso di sentenza definitiva di condanna non assolva ad eventuali obblighi. Nel processo conclusosi la scorsa estate, la corte aveva ridotto la pena per Montante a 8 anni rispetto ai 14 decisi in primo grado. Con lui erano stati condannati il capo della security di Confindustria Diego Di Simone, che si era visto infliggere 5 anni, e il sostituto commissario Marco De Angelis a 3 anni e 6 mesi. Ora si attende che venga fissata la Cassazione. Secondo l'accusa, Montante avrebbe messo in piedi un'attività di dossieraggio, potendo disporre di notizie riservate, per colpire i propri avversari e avrebbe condizionato la politica regionale. Associazione a delinquere, corruzione, accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, i reati contestati a vario titolo agli imputati. Attualmente sono pendenti altri due processi in ordinario davanti al Tribunale di Caltanissetta.